Per me è difficile parlare in Grecia, magari in due o tre mesi posso parlare come Calimera, Calispera e qualcosa di altro. Per me è un piacere e un grande onore essere qui ora, in uno dei migliori team nella storia del volleyball in Grecia, e non solo in Grecia, ma anche in Europa. Nel Olimpiakos c'erano grandi, grandi coach come Montali, come Berrutto. Sono solo un ragazzo, non un ragazzo, ma un ragazzo come un coach. Sono un ragazzo, sono un ragazzo, ma preferisco parlare del giro e non di me, perché chi mi conosce? Non mi conosce, perché mi piace lavorare in Grecia. Questo è tutto. Grazie.